Don Stefano, ricordare la figura di Monsignor Agostino per noi è sicuramente un momento importante. Ha formato tanti giovani, ha formato tanti sacerdoti e soprattutto ha guardato al mondo dei laici con molta chiarezza. Diciamo che noi siamo figli di quel tempo lì e quindi siamo stati formati alla scuola di questo grande maestro che abbiamo avuto qui a Crotone e che ancora risentiamo un po' quella che è la sua cultura. Assaporiamo un po' un post concilio, ecco, perché lui è stato figlio del concilio, quindi questa ventata di novità all'interno anche di questa realtà nostra crotonese dal rifiorire dei gruppi e quindi da non più una chiesa gerarchica ma una chiesa comunionale. Questa realtà, se ben ricordate, se ricordiamo tutti quanti, è stata manifestata attraverso anche la ristrutturazione della cattedrale al tempo di Monsignor Agostino che fece costruire un altare, un quadrato, con dei sedili perché era il segno e simbolo di una chiesa aperta a tutti quanti dove il laicato poteva far parte di questa grande comunità che è la chiesa. Per quanto riguarda il laicato dobbiamo dire che lui è stato un precursore di tante cose e soprattutto che ha dato anche spazio alle donne. Sì, dobbiamo dire veramente che questa realtà del laicato a 360 gradi vede anche l'aspetto femminile. Io dico sempre che l'intuizione della donna all'interno della chiesa è molto significativa e quindi lui è stato un precursore dei tempi, io dico che è stato un profeta che leggeva a distanza e quindi le cose che lui diceva si realizzavano. Quindi l'avvento dei laici, non soltanto dei maschi ma anche delle donne all'interno di questo grande contesto che è la chiesa dove il contributo è stato veramente forte perché potessimo vivere questa esperienza, anzi io la chiamo sempre primavera dello spirito, un tempo un po' particolare che tutti abbiamo vissuto nel passato ma anche oggi in questo momento un po' particolare dove se non siamo protagonisti ecco non riusciamo a creare nulla. Lei è stato anche segretario del signor Agostino, quindi immagino i ricordi che ha. Il più bello? Beh il più bello è quello di essere stato un discepolo ai piedi di un grande maestro. Mi ha insegnato a riconoscere un po' la dignità sacerdotale ma a riconoscere che non siamo delle pietre. Guai se noi sacerdoti, parlo di me, se non ci sentiamo umani, ecco umani con questa dignità divina, il sacramento dell'ordine, però questa umanità, Papa Francesco ci parla di toccare la carne di Cristo e noi siamo chiamati veramente, e il Vescovo mi ha insegnato da tante cose, ad essere un prete fra la gente come era lui in mezzo alla comunità. Grazie.